È un po' stanco ma ha già giocato il suo turno regolare per quanto riguarda la Serie C qui a Città di Castello. Nell'ultima giornata si giocano interne le gare di Serie C, Serie B1 e B2. Paolo Carloni, presidente del tennis tavolo Tifernum. Oggi giornata importante soprattutto per quanto concerne la B1, Paolo. Però ne parleremo. Solo un accenno. Se dovessero vincere i tuoi ragazzi, cosa potrebbe accadere? Siamo secondi a pari merito. Se vinciamo arriviamo secondi, se perdiamo arriviamo quarti, visto che sono tre le squadre a pari punti. Siccome l'organico della 2 non è completo, il secondo posto dà quasi la certezza del ripescaggio in Serie A2. Quindi sarebbe un grande risultato. Sarebbe la quarta promozione di fila alla fine. Allora, debiti scongiure e quant'altro? Ma di questo e altro ne riparleremo. Parliamo di tennis tavolo al femminile della serie Siamo Piccoli. Ci alleniamo, ci crediamo e cresceremo. Di cosa parliamo? Di una bella realtà, Paolo? Beh, parliamo del fatto che abbiamo avuto una notizia straordinaria. Noi, come forse alcuni sanno, abbiamo una bambina di 10 anni che è molto brava, che è la numero uno nelle classifiche della categoria giovanissime e che ha vinto i primi tre tornei su quattro quest'anno. E che mercoledì è venuto l'allenatore della Nazionale a visionarla qua a Città di Castello e al termine dell'incontro ha confermato già in anticipo all'allenatore, al nostro allenatore, D'Andrea Del Tomba, che verrà convocato prima per gli Open in Croazia, che è il torneo giovanile più importante a livello europeo, e poi a settembre per i campionati europei di Strasburgo. Quindi che è una cosa straordinaria, perché mai era successo prima, pur avendo quasi 40 anni di storia, che noi avessimo una ragazza convocata per la Nazionale. O meglio, quasi 40 anni fa abbiamo avuto Maria Teresa Picella, che è stata convocata per un raduno in Cina. Ma qui parliamo di europei, quindi parliamo di qualcosa di più. Quindi tennis tavolo al femminile per una squadra non lontana, forse a breve, anche qui a Città di Castello. Sì, abbiamo deciso di ripescare Giulia Ghigi. Noi nel femminile purtroppo andiamo avanti di dieci anni in dieci anni, nel senso che nella prima decada abbiamo avuto Maria Teresa Picella, che ha fatto dei grandi risultati. Nella seconda decada abbiamo avuto Giulia Ghigi, che ha vinto con Alessandro Baciocchi il doppio misto ragazzi agli italiani e che ha vinto anche la Coppa delle Regioni a Molfetta. Poi aveva lasciato anche lei negli ultimi due anni. Poi, visto che Alessandra aveva bisogno di compagni per poter fare la gara a squadre, l'abbiamo recuperata quest'anno. Abbiamo vinto la fase regionale del campionato di Serie C. Domani abbiamo la fase nazionale, sono 22 squadre. Al termine sono quattro gironi, le prime due di ognuno dei quattro gironi viene promossa in Serie B e ci proviamo.